buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova puntata dell'intervallo didattico siamo oggi in compagnia del professor mirko maracci che ci parlerà un attimo dei suoi interessi di ricerca di cosa di cosa fa nella sua vita didattica ecco buongiorno buongiorno luca e buongiorno a chi guarda e guarda questa intervista questo video allora come presentarmi io sono professore al presso dipartimento di matematica dell'università di pavia e mi occupo appunto di didattica della matematica devo dire che gli interessi sono stati negli anni diversi nel senso che il tema dell'insegnamento avvenimento della matematica mi ha sempre interessato sin da quando ero studente universitario ma probabilmente anche da prima e ci sono vari temi che sollecitano qualche modo di interesse la mia curiosità e quindi mi viene voglia di approfondire nello specifico il tema su cui in modo poi più approfondito mi sono dedicato è il tema del l'uso degli strumenti gli addetti a lavori direbbero degli artefatti nell'insegnamento e apprendimento della matematica strumenti mi riferisco in particolare a strumenti tecnologici però le riflessioni che si possono fare possono anche riguardare l'uso di strumenti concreti dagli strumenti di disegno della riga del compasso insomma una serie di strumenti di manipolativi che si usano spesso ai livelli scolari più più bassi e diciamo collegate a questo tema c'è l'interesse da parte mia di studiare come l'uso di questi strumenti può mediare i processi di insegnamento e apprendimento della matematica questo è forse appunto il tema principale però ripeto gli interessi sono stati sono sono stati anche altri per esempio la transizione tra scuola superiore università quali sono gli elementi di difficoltà che cosa la contraddistingue o il concetto di competenza di competenza matematica che è una nozione relativamente recente nella riflessione educativa quantomeno nel mondo della scuola ed è una nozione che secondo il mio parere necessita ancora di essere ben pensata articolata per poterne poi impostare un approccio didattico veramente centrato su questa idea per fare un attimo una riflessione sul ruolo dell'educazione della ricerca in educazione secondo lei perché è importante perché potrebbe essere importante oggi la ricerca in educazione e quali potrebbero essere gli obiettivi nel caso della didattica della matematica partirei da una domanda anzi da due la prima domanda è se riteniamo che una formazione matematica sia fondamentale per i cittadini a prescindere dal lavoro poi specifico che questi vorranno fare questa è la prima domanda e ora come ora diciamo può può non esserci accordo su il livello di questa formazione ma direi che c'è una condivisione universale da parte di chi si occupa di politiche dell'educazione di chi si occupa di economia il mondo del lavoro eccetera a ritenere che questa sia necessario necessario al cittadino per poter svolgere un ruolo attivo nella società avere una certa formazione in matematica la seconda domanda è se c'è soddisfazione rispetto a livelli attuali della formazione del cittadino dei nostri degli studenti quando escono dalle scuole o anche dall'università e a questa seconda domanda mi sembra che in generale si registri una insoddisfazione ma insoddisfazione da parte di tutti diciamo qui si crea una tensione tra qualche cosa che diciamo che è fondamentale e poi qualche cosa che non è raggiunto non è raggiunto in modo soddisfacente allora si determina un problema parto di qui con la risposta quindi l'educazione matematica in senso la ricerca in didattica della matematica si dovrebbe preoccupare di affrontare questa questa questione si occupa di dello studio dei processi di insegnamento apprendimento della matematica a tutti i livelli scolari e ora si parla cosa che una volta sembrava in pensare forse impensabile si parla di matematica già nel livello 0 6 anni quindi molto precocemente fino non solo all'università ma anche oltre pensiamo alla formazione permanente informazioni del cittadino dei lavoratori che cerca quindi veramente su diversi livelli la formazione anche dell'insegnante di matematica dei processi di formazione dell'insegnante si occupa quindi dello studio di tutti questi processi e dei fattori che l'influenza che sono fattori didattici fattori cognitivi possono essere linguistici possono essere affettivi sono molteplici poi la didattica della matematica dal mio punto di vista ha in qualche modo l'obiettivo di poter intervenire per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento della matematica questo però non significa che tutta la ricerca in didattica della matematica sia immediatamente applicabile come tutta la ricerca scientifica ci sono vari livelli di astrazione quindi ci sono studi che sono più interni alla disciplina ci sono ricerche invece più vicine alla pratica che quindi possono in qualche modo essere più direttamente fornire più direttamente risorse e strumenti per l'insegnante la situazione attuale della che si trovano che ci si trova tutti a dover affrontare in questo in questo periodo la domanda è questa se ci si dovesse rivolgere a un particolare livello scolastico un insegnante di una particolare scuola che consiglio gli si potrebbe dare cerchiamo di vedere che cosa si può dire allo studente all'insegnante di scuola penso penso a tutti gli insegnanti ma in particolare di scuola secondaria di secondo grado e allora io l'unica cosa che che mi sento di poter dire di non affannarsi a cercare di fare le stesse cose allo stesso modo allora in una situazione in cui c'è ripeto una uguale una parità di possibilità di accesso degli studenti alle risorse internet posso valutare gli studenti con attività che siano meno procedurale che magari riguardano la ricerca di informazioni la loro sistematizzazione la produzione di un video che spiega qualcosa allora non valuto più la l'abilità specifica procedurale però magari valuto l'abilità di organizzare un discorso attorno a certe idee matematiche quelle di poterlo spiegare sostenere le proprie le proprie idee soprattutto in un'attività un pochino come quella che così a cui alludevo prima se ho un'attività di in cui gli studenti devono fare congetture e allora le congetture possono essere personali possono essere anche molto diverse e quindi davvero poi ogni studente è responsabile della propria e deve mettere in quindi qualche modo chiamato a rispondere di quello che è comunicare condividere quello che lui ha prodotto ora il però il problema diciamo questo non risolve quando la valutazione resta e io penso che sia un problema irrisolto in didattica della matematica è chiaro che la valutazione in qualche modo è inessenziale ma nel momento in cui la valutazione diventa troppo importante lo studente cercherà di innescare strategie che non sono finalizzate a rispondere adeguatamente alla domanda dell'insegnante ma sono finalizzate a prendere un buon voto e questo cambia completamente le cose perché se la mio obiettivo è prendere un buon voto lo studente il compagno che mi suggerisce è una strategia più che efficace se il compagno è affidabile allora si deve cercare di far sì che l'obiettivo dell'insegnante dello studente coincidano che l'apprendimento dello studente diventi anche un obiettivo dello studente ma questo richiede io non sono un esperto ma il problema lo vedo in modo evidente richiede un ripensare la dimensione della valutazione in classe non solo a distanza ma anche in presenza e la ringrazio tantissimo per la disponibilità e per le chiacchiere insomma che abbiamo che abbiamo fatto per l'esplorazione di questo pomeriggio grazie grazie a te grazie a chi ha avuto o chi avrà la pazienza di stare ad ascoltare queste queste chiacchiere grazie a te 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 gra